Un Natale di speranza, specie per chi soffre, chi è senza lavoro, famiglie che affrontano momenti drammatici. Parte dall'Ogudore, dal Gocceano, l'augurio della Chiesa Sarda a tutta l'isola, territori che affrontano gravi problemi e tragedie di cui si è occupata la cronaca recente. E quindi che questo Natale possa portare quella gioia e quella serenità, diciamo, in tutti gli aspetti della vita. Io desidero anche rivolgermi proprio attraverso questa diocesi che sto conoscendo e amando. Per la famiglia Masala di Nule, per Stefano che ancora aspettano, per Antonella, Davide e Adriano. Antonella e Davide ieri li abbiamo accompagnati al Camposanto. Ma questo anche per tutti quei lutti, per tutte quelle situazioni di carenza della vita, per il non lavoro, tante famiglie, tanti uomini, tante donne soffrono. Tutti possiamo ritrovare il senso della solidarietà comune, possiamo ritrovare anche un senso da ridare alla nostra terra, anche quella bellezza che tutti gli riconoscono. Temi che saranno al centro dell'omelia, che il Vescovo Corrado Melis pronuncerà nella messa di mezzanotte, dalla parrocchia di Santa Sabina Patada e che verrà trasmessa dalla nostra emittente. Poter incontrare forse attraverso anche il mezzo televisivo della televisione tante persone che in loro case festeggiano, tanti malati e tante persone che sono nella sofferenza e che preferiscono forse l'intimità della casa, poter vivere anche attraverso questo mezzo, quel ricordo del Signore, quella Sua parola, ricordare nella speranza per tutti quel dono che Gesù ci ha fatto nascendo.